Buongiorno, sono il professor Stefano Carrai e insegno letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Sono molto lieto di partecipare a questo importante ciclo di lezioni e vi parlerò della presenza del mito di Orfeo, come dice il mio titolo, nel dittico dantesco Vitanova più Commedia. Ora, entrando in argomento, prima di tutto, essendo proprio in ambiente scolastico, prima di tutto vorrei dire questo, che la tradizione nostra scolastica di lettura di Dante non può che essere fatta per episodi, antologica. Questo è necessario, lo sappiamo bene, i programmi sono vasti, non consentono di fare diversamente. Questo però, diciamo, introduce anche dei limiti nella lettura appunto di Dante, nella comprensione del testo di Dante, perché la lettura antologica ci fa perdere, naturalmente mette in rilievo, ovvero pone l'enfasi su brani splendidi, ma ci fa perdere la percezione dell'insieme, di quello che i critici chiamano il macrotesto, cioè della struttura complessiva del poema, la Divina Commedia, che per Dante era estremamente importante, naturalmente, per le implicazioni non solo teologiche della architettura complessiva, ma anche per le implicazioni propriamente narrative. è un lungo racconto, un lungo racconto di viaggio, la Divina Commedia, che appunto è tutto importante. Questo, tuttavia, ci fa dimenticare anche un'altra cosa, un altro aspetto importante, che spesso viene dimenticato, per la verità, anche da certi dantisti, cioè ci fa perdere di vista il nesso strettissimo che esiste tra questo grandioso poema e l'opera giovanile di Dante, la vita nuova, che ne costituisce la premessa fondamentale e indispensabile, irrinunciabile. A questo proposito vorrei passare subito al testo, perché poi leggendo e commentando i testi, queste connessioni emergono con tutta la loro evidenza. Quindi, se possiamo passare alla prima slide, ecco, questo è il finale della vita nuova. La vita nuova è, diciamo, un testo scritto da Dante giovane, intorno ai 30 anni, un po' prima, probabilmente compiuto intorno ai suoi 30 anni, un testo misto di prosa e di poesia, in cui si racconta la storia del suo innamoramento per Beatrice, di un amore poi impossibile, dunque infelice, la morte di Beatrice e la sua ascesa al cielo. L'ultimo sonetto ci rappresenta proprio la visione dell'anima beata di Beatrice nell'Empireo. Dopo questo sonetto Dante aggiunge questa breve conclusione, questa specie di codicillo finale che vedete. dice semplicemente così, appresso questo sonetto, cioè, oltre la spera che più larga gira, all'ultimo, quello con la visione di Beatrice e beata nell'alto dei cieli, appresso questo sonetto apparve a me un'ammirabile visione. Non dice qual è questa ammirabile visione, ma aggiunge, nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta, infino a tanto che io potessi più degnamente trattare di lei. Quindi, questa visione, non sappiamo esattamente che cosa rappresenti, ma rappresenta qualcosa che induce Dante a proporsi di non parlare più poeticamente, dire qui significa dire in poesia, di non parlare più di questa benedetta, cioè, appunto, di Beatrice appena vista nell'Empireo, finché non sarà in grado di trattare di lei, di parlare poeticamente di lei in maniera più alta, più degna. E di venire a ciò io studio quanto posso, io mi ingegno di fare così per quanto posso, siccome la sa veracemente, perché naturalmente Beatrice è anima beata, sa e vede tutto, sicché, se il piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per a quanti anni, quindi se Dio mi darà ancora alcuni anni da vivere, io spero di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Dante si augura, però formula l'auspicio, che lui possa un giorno scrivere in poesia qualcosa di lei che non è mai stato scritto per nessun'altra donna. Ora, i critici danteschi naturalmente collegano immediatamente e facilmente questo finale alla Divina Commedia, perché naturalmente la Divina Commedia ripresenta lo stesso protagonista Dante, ripresenta il personaggio di Beatrice con un ruolo chiave e c'è la glorificazione di Beatrice nell'alto dei scelli, nella terza cantica, nel paradiso. Però, naturalmente, questo non può essere, cioè non può essere che Dante qui, nel finale della Vita Nuova, prometta la scrittura prossima della Divina Commedia, perché la Divina Commedia presuppone l'esilio. L'azione è immaginata nell'anno 1300, nella primavera dell'anno 1300. La Vita Nuova è manifestamente scritta intorno al 1295 e quindi c'è uno scarto di troppo tempo. Più probabilmente Dante aveva già in mente un disegno di un poema su Beatrice che poi, strada facendo, nel corso di una decina d'anni o forse poco più, si è trasformato nel complesso progetto, però che poi è diventato la Commedia. Quindi sarà qui la speranza di scrivere qualcosa che è una prima idea del poema sull'aldilà, poema sul viaggio ultraterreno. Ma fatto sta che il raccordo tra Vita Nuova e Commedia, in qualche misura, sia pur sotterraneo, ma è dichiarato in questo finalino che abbiamo letto insieme. E d'altra parte, proprio come ho già detto, Beatrice torna in scena, appunto, nella Commedia, fin dal secondo canto dell'Inferno, dove, insomma, ricorderete, Beatrice scende dalla sua sede nell'Empireo per indurre Virgilio, l'anima di Virgilio, a partire dal limbo e andare in soccorso di Dante che è impedito nel suo cammino di salvezza dall'intervento delle tre fiere, è vero, appena uscito dalla selva oscura. e c'è un dato narrativo da sottolineare. Quando, nel secondo canto dell'Inferno, Beatrice, appunto, ritorna in scena, Dante, autore, non presenta il personaggio di Beatrice, ma dice soltanto che Beatrice scende dall'Empireo e va nel limbo, senza dire chi è questa Beatrice. Questo cosa significa? Significa che Dante presuppone lì un lettore che conosce già il personaggio e dunque lo conosce dall'unica opera che poteva farlo conoscere, cioè La Vita Nuova. Quindi, già il ritorno in scena di Beatrice nel secondo canto dell'Inferno presuppone un lettore che abbia già letto La Vita Nuova. Lo dà per scontato tanto. Non solo, ma quando Beatrice tornerà sulla scena del poema nel Paradiso Terrestre, nel trentesimo canto del Purgatorio e tornerà sulla scena per non lasciarla più fino alla fine, Beatrice viene in scena sul carro nella processione mistica del Paradiso Terrestre, il carro che rappresenta la Chiesa, trainato dal grifone che rappresenta Cristo. Sono passati dieci anni dalla sua morte nella immaginazione dell'autore perché Beatrice è morta l'8 giugno 1290, l'azione del viaggio ultraterreno è immaginata nella primavera del 1300, come appena detto, quindi sono passati dieci anni dalla morte di Beatrice. Dante parla infatti di decenne sete di rivederla e a questo punto il lettore si aspetterebbe un atteggiamento affettuoso e invece Beatrice proprio si rivolge immediatamente a Dante con grande durezza, biasimandolo per il suo comportamento di peccatore. Possiamo passare alla prossima slide perché ho inserito qui pochi versi di questa lunga reprimenda, di questo lungo rimprovero di Beatrice a Dante nel trettesimo canto del Purgatorio, ma sono versi molto interessanti perché fanno esplicito riferimento al racconto della vita nuova. Infatti Beatrice dice alcun tempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui, meco il menava in dritta parte volto. Questo fa riferimento appunto alla storia raccontata nella vita nuova quando con la sua bellezza, quella del volto, quella degli occhi di ragazza, Beatrice orientava, portava con sé meco il menava orientava Dante verso la giusta, giusto obiettivo, dritta parte, volto in dritta parte. Quindi lo orientava sulla retta via, quella retta via che poi l'incipit del poema dice di essere stata smarrita. fin tanto che ero viva con la mia bellezza, che è specchio della bellezza sublime di Dio, io lo orientavo verso il bene. Si tosto, aggiunge Beatrice, come in sulla soglia fui di mia seconda etate e mutai vita, noi oggi diremmo appena passai a miglior vita, quindi quando morì alla vita terrena ma salì alla vita del cielo, questi si tolse a me e di essi altrui. Lui mi ha tradito, ha tradito l'amore mio. Quando di carne a spirito era salita, quando perdendo però il mio corpo ero diventata puro spirito e bellezza e virtù cresciuta mera, perché naturalmente l'anima deprivata del corpo acquista bellezza e virtù perché si avvicina a Dio, fui io a Lui men cara e men gradita, mi volle meno bene, mi amò di meno. proprio quando avrebbe dovuto semmai amarmi ancora di più e volse i passi suoi per via non vera, ecco, smarrì la diritta via, appunto, immagini di ben seguendo false, lasciandosi, diciamo così, abbindolare da false immagini di gioia, di felicità che nulla promession rendono intera, che non mantengono le promesse che fanno immagini fallaci della gioia. Quindi, vedete che, a parte, vero, questa accusa fortissima a un Dante peccatore, proprio perché non segue più quell'amore per Beatrice, Beatrice donna angelo, vero, alla maniera stinovista, che quindi con la sua bellezza mette in comunicazione la terra con il cielo, dunque il poeta con il principio supremo della divinità, appunto, Dante ha smesso, vero, di seguire questa strada. Ma a parte questo, la cosa interessante è proprio il rinvio alla storia terrena del loro amore, come era stata raccontata nella vita nuova. Quindi, insomma, il rapporto tra questi due testi è strettissimo e deve essere strettissimo anche nella nostra lettura. Non possiamo prescindere, leggendo la commedia, dall'antefatto che è costituito dalla vita nuova. Ora, allora, facciamo un altro passo. Se noi teniamo insieme questo grande e duplice racconto, noi vediamo la storia di un poeta che perde la donna amata perché muore, giovane, e allora va nell'aldilà anche per rivederla, per placare questa decenne sete di cui Dante ci parla. Naturalmente non è solo questo lo scopo del viaggio ultraterreno di Dante, è uno scopo anche catartico, uno scopo di fede, però per riportare un messaggio di salvezza alla cristianità, però c'è anche questo movente personale. E allora, se noi teniamo insieme questi due racconti che sono poi insomma due metà di un unico racconto fatto da Dante con gli stessi personaggi, il protagonista è la deuteragonista, si direbbe, Beatrice, allora questa grande storia ci ricorda, assomiglia un precedente mitologico molto forte che è il mito di Orfeo ed Euridice. Abbiamo in entrambi i casi un poeta e un poeta teologo perché che Dante sia poeta teologo è evidente a tutti, d'altra parte se andate a Ravenna a vedere la sua tomba trovate inciso proprio l'epitaffio che dice appunto poeta teologus. Ma anche Orfeo era considerato tale all'epoca di Dante questa nozione di Orfeo che parla De Divinis parte già da Aristotele e poi viene riproposta da vari padri della Chiesa autori importanti per Dante come Lattanzio, Sant'Agostino, Sant'Omaso eccetera. Quindi due poeti teologi entrambi due poeti che entrambi perdono la donna amata e vanno nell'aldilà intraprendendo dunque un cammino diciamo di salvezza con esiti ben diversi ma vanno nell'aldilà vero anche per rivedere per ritrovare insomma la donna perduta. Ora se passiamo alla prossima slide questo nel caso di Orfeo non c'è bisogno neanche di commentarlo è evidente ricordate il mito di Orfeo d'Euridice Orfeo va nell'Ade perché sconsolato vuol chiedere a Plutone Proserpina gli dei inferi che gli consentano di riportare in vita la moglie Euridice loro glielo concedono però con un patto il patto è quello che non dovrà voltarsi a guardarla fin tanto che non saranno entrambi usciti dall'Ade poi Orfeo non riesce a trattenersi prima dell'uscita dall'Ade si volta a guardare la moglie e allora la riperde la seconda volta e per sempre perché Euridice viene risucchiata nell'inferno dalle forze del male del resto che il viaggio che la catabasi come si dice di Orfeo sia fatta per questo lo dice chiaramente per esempio vedete il racconto di Ovidio nel decimo libro delle metamorfosi causa vie est coniuns il motivo del viaggio è la moglie cioè ritrovare riavere viva la moglie ma in qualche modo più sottilmente e lo dice anche Dante proprio in quel momento in cui ritrova Beatrice nel paradiso terrestre nel trentunesimo canto del purgatorio vedete versi 133 e 135 le tre ninfe della processione mistica che intercedono in favore di Dante di fronte a questo duro attacco di Beatrice cantando le chiedono volgi Beatrice volgi gli occhi santi era la sua canzone cioè cantavano così volgi gli occhi santi al tuo fedele che per vederti ha mossi passi tanti per vederti cioè per rivederti per ritrovarti Dante ha fatto questo immane viaggio attraverso l'inferno il purgatorio è arrivato fino a qui per rivederti dunque il movente personale di ritrovare rivedere la donna amata c'è anche qui naturalmente le due storie combaciano nelle loro linee principali ci sono però anche delle evidenti divergenze Euridice era la moglie di Orfeo naturalmente Bisce e Portinari non era affatto la moglie di Dante noi potremmo chiamarlo il primo amore secondo quello che Dante ci racconta ma diciamo questi possono essere adattamenti più che plausibili nella riscrittura di un poeta che assume come io penso le linee portanti di un mito di un mito ma naturalmente libero di apportare alcune modifiche alcune variazioni personali allora però se c'è questa idea di fondo di rimodellare la propria storia personale sulla base sull'ipotesto direbbero i critici del mito di Orfeo e Euridice dobbiamo anche chiederci che cos'era il mito di Orfeo e Euridice per Dante cioè come Dante poteva leggerlo come era arrivato questo mito però sotto gli occhi del poeta naturalmente i testi principali che lo tramandavano sono testi di due autori tra i più cari a Dante Virgilio quarto delle Georgiche e Ovidio decimo delle Metamorfosi ma c'era anche un altro libro estremamente familiare e caro a Dante che tornava a raccontare di nuovo il mito della discesa di Orfeo agli inferi per richiedere in vita Euridice defunta ed è un libro il De Consolazione Filosofia di Boezio un libro che Dante dice di aver letto insieme al De Amicizia di Cicerone di aver letto per consolarsi dopo la morte di Beatrice in giugno 1290 di aver letto questi due libri proprio per diciamo sollevare l'animo dalla prostrazione in cui questa scomparsa lo aveva gettato dunque è un libro molto familiare e molto caro a Dante ora se passiamo alla prossima slide vediamo che nel carme finale del terzo libro della sua Consolazio Boezio raccontava di nuovo appunto questo racconto mitologico ma alla fine del carme aggiungeva proprio in coda questi sette versi finali che danno una interpretazione del racconto mitologico una interpretazione in chiave nuova in una chiave cristiana siamo appunto in epoca tardo-antica dunque già in epoca cristiana e vedete il codicillo finale recita questo racconto riguarda voi tutti voi che desiderate rivolgere la vostra mente verso la luce suprema cioè quella però del paradiso di Dio infatti colui che abbassa gli occhi sopraffatto verso la grotta del tartaro dell'inferno quiquid precipum trait perdit cioè perde ciò che ha di più suo di più proprio per il cristiano è l'anima dum videt inferos mentre guarda l'inferno quindi adattato alla storia di Orfeo mentre si volta a riguardare indietro l'inferno perde la sua anima perde ciò che ha di più importante naturalmente nell'allegoria era la moglie euridice ma nella diciamo interpretazione cristiana di questa storia era l'anima del cristiano infatti il medioevo e già appunto l'età tardoantica ma via via sempre di più non avevano altro modo di salvare di mantenere in essere questo grande bagaglio di storie di racconti che è appunto il repertorio della mitologia classica non aveva altro modo di farlo proprio che cristianizzarlo e su questo ci sono molti studi lo sappiamo bene i miti antichi vengono visti dalla cristianità come prefigurazioni vaghe ancora incerte della verità rivelata poi dal cristianesimo dopo l'avvento di Cristo e dunque ecco che appunto era possibile rileggere in questa chiave moralizzata no questo viene fatto per esempio per tutte le storie delle metamorfosi raccontate da Ovidio ma viene fatto un po' per tutti i miti antichi alcuni commentatori del libro di Boezio del De Consolazione e Filosofia e commentatori importanti di epoca medievale come Remigio d'Oxer e Guglielmo di Conch quando arrivano a commentare i versi che abbiamo appena letto amplificano questa chiave di lettura data già da Boezio e dicono che Orfeo rappresenta fuori di metafora rappresenta l'anima del cristiano che va nell'aldilà per salvarsi e nell'aldilà l'anima del cristiano è rappresentata appunto da Euridice che deve essere appunto tolta dall'inferno e riportata alla vita la vita dello spirito solo che non obbedendo al precetto divino Orfeo pecca ricade nel peccato e dunque perde la sua anima non riesce a completare questo cammino di salvezza arrivando fino in fondo ma cedendo al peccato perde la sua anima e la fa morire nell'inferno definitivamente dunque se Dante come credo che fosse praticamente inevitabile leggeva questo mito con questo bagaglio interpretativo in questa chiave di lettura allora noi possiamo pensare che anche questo suo viaggio sia modellato su quello antico tradizionale di Orfeo ma nella prospettiva appunto della cristianizzazione già avvenuta nella sua epoca del mito di Orfeo e questa questa lettura del mito di Orfeo dai commentatori di Boezio era poi passata un po' in tutta la cultura medievale anche commentatori di Ovidio e poi c'è L'Ovid Moralisé un poema francese che appunto propaga questo tipo di lettura dei miti antichi ora se tutto ciò dunque è vero nella storia di Orfeo c'è un gesto che è il più significativo di tutti e che è il momento saliente dell'intero mito di Orfeo e dell'Ovidio ed è il gesto di Orfeo che si volta indietro perché lì Orfeo dimostra di non essere un cristiano perfetto essere un buon cristiano che non riesce però ad arrivare fino in fondo nel suo percorso virtuoso quel gesto è il più significativo perché indica qual è il succo diciamo così del mito di Orfeo del ridice che appunto è il fatto che Orfeo non sa non sa vero resistere alla tentazione del peccato cede e dunque cade cade il mito di Orfeo è un mito di scacco è un mito di perdita allora se questo è vero noi possiamo verificarlo vero anche per esempio nelle varie rappresentazioni figurative del mito di Orfeo vedete già nell'epoca antica questo che vi presento è un basso rilievo oggi conservato al museo archeologico di Napoli che è copia romana di un originale greco del quinto secolo avanti Cristo vedete dunque che già in epoca antica quando si deve raffigurare il mito di Orfeo si sceglie e questo preciso momento vedete Euridice è la figura al centro sulla destra vedete Orfeo che ha la lira nella mano sinistra la lira con cui ha addolcito vero gli dei inferi che gli hanno consentito di riprendere Euridice per portarla in vita ma Orfeo qui è proprio il punto in cui si è voltato a guardare Euridice e vedete già che sulla sinistra è spuntato dalle tenebre il personaggio di Hermes per riprendere per la mano Euridice e portarla indietro quindi già per gli antichi e questo era il momento vero più significativo di tutta la storia quando appunto Orfeo perde definitivamente Euridice per il proprio errore ma questo resta un po' in tutte le epoche se andiamo avanti con la prossima slide qui vediamo una miniatura appunto di quel poema che citavo poco fa Ovid Moralisé il manoscritto in questione che è conservato a Lione è stato confezionato intorno al 1385 dunque vedete le fogge degli abiti sono squisitamente medievali ma anche lo strumento dalla lira antica si è trasformato insomma in uno strumento ad arco che è un po' l'antenato del nostro violino vedete Orfeo che lo suona ma si è già voltato e dunque vedete che due diavoli stanno uscendo ovvero dalla bocca dell'inferno a riprendersi Euridice per riportarla indietro se procediamo ancora con la prossima slide vediamo in questo caso un manoscritto del secolo successivo del 400 una miniatura che illustra appunto il racconto del mito di Orfeo di Orfeo di Oridice è contenuto in un'opera di Christine de Pison Epitre d'Othea un manoscritto della British Library vedete qui le fogge degli abiti sono ormai rinascimentali Orfeo suona di nuovo la sua lira ma è una lira d'abbraccio di foggia tipicamente rinascimentale si è voltato e anche stavolta si vede un demonio nero con gli unghioni gli artigli che è uscito dalla bocca dell'inferno per riprendersi Euridice se procediamo ancora con la prossima slide qui siamo già al 700 vediamo questo bellissimo gruppo del Canova conservato a Venezia Museo Correr Orfeo naturalmente è il personaggio in primo piano si è voltato e vedete sullo sfondo Euridice con quella smorfia di dolore perché sta rimorendo morendo per la seconda volta però viene attratta all'indietro di nuovo verso l'inferno e così ancora se procediamo con la prossima qui siamo già in pieno romanticismo dunque il momento saliente della storia di Orfeo Euridice è ancora più teatralizzato drammatico vero perché vedete che Orfeo si è appena voltato ed Euridice è già stata risucchiata nelle tenebre dell'abisso però indietro e in basso e Orfeo la perde definitivamente ecco procediamo ancora ora allora se allora questo ripeto è il momento è il gesto insomma più significativo che proprio diciamo connota in maniera evidente inequivocabile però la storia di Orfeo Euridice allora insomma mi sembra molto importante indicativo ritrovare questo gesto in qualche misura o diciamo il monito che lo presuppone ritrovarli mimetizzati nel tessuto narrativo della divina commessa esattamente nel canto nono del purgatorio Dante e Virgilio sono arrivati davanti alla porta del purgatorio e vi ricordo tra parentesi che questa è l'unica vera porta che si incontra lungo tutto il cammino dell'aldilà fatto da Dante perché la porta dell'inferno incontrata nel terzo canto dell'inferno è una porta non porta non è una vera porta perché Dante e Virgilio la trovano completamente sgangherata perché così la lasciò Cristo quando la aprì d'impeto di forza nel momento in cui scese al limbo per trarne fuori i patriarchi i padri santi del vecchio testamento e dunque l'ha lasciata così è una porta che ammonisce con quella scritta terribile che tutti ricordate ma che lascia passare la porta del paradiso poi non esiste perché dopo che la chiesa ha inventato questo regno intermedio del purgatorio che non esiste prima del dodicesimo secolo e viene canonizzato poi circa alla metà del tredicesimo del duecento e dopo appunto l'invezione del purgatorio che ci ha raccontato in maniera affascinante lo storico francese Jacques Legoff nel suo libro appunto la nascita del purgatorio è chiaro che la porta del paradiso non può esistere più perché le anime che stanno in purgatorio ci stanno solo temporaneamente ma sono di fatto anime già salve devono solo aspettare un po' a seconda del peccato commesso ma siccome si sono pentite quanto anche magari pentite in extremis però hanno diritto di salire nel regno dei cieli di andare in paradiso il purgatorio dunque è il vero punto di passaggio poi una volta lì dentro devono aspettare fare anticamera ma saliranno quando sarà il loro momento sicuramente in cielo dunque non c'è porta del paradiso la vera porta il vero sbarramento è questa porta qui del purgatorio e dunque è molto significativo se rivediamo la slide è molto significativo che l'angelo portinaio che Dante e Virgilio incontrano sulla soglia della porta del purgatorio dia questo ammonimento dicendo entrate quindi entrate pure ma facciovi accorti cioè vi avviso che di fuor torna chi indietro si guada cioè non voltatevi mai più a guardare indietro verso l'inferno perché altrimenti sarete risucchiati dal male nel male nel buio dell'inferno allora è chiaro che questo avvertimento dell'angelo portinaio in qualche modo fa proprio però naturalmente in maniera larvata in maniera insomma sottile ma fa proprio il monito di Plutone e Proserpina a Orfeo non voltarti indietro finché non sarà il momento questo è il patto e così una sorta non di patto ma comunque di avvertimento analogo molto tremendo anche questo da l'angelo Portinai chi si chi si gira indietro a guardare verso il male torna indietro verso il male allora è anche vero e questo va pur detto che il voltarsi indietro è gesto proprio antropologicamente considerato di segno negativo un po' in tutte le culture in tutte le culture già nella Bibbia nel primo libro della Bibbia il Genesi quando Lot e la sua famiglia escono dalla città del peccato Sodoma appare un angelo che è intima di non voltarsi più indietro a guardare il male e qui la moglie di Lot non obbedisce al monito divino si gira e viene trasformata in una statua di sale c'è anche questo precedente che Dante ha in mente affidando questo monito alla voce dell'angelo Portinaio però il primo referente è senz'altro il racconto relativo a Orfeo perché un poeta e poeta teologo come Dante con chi poteva rapportarsi a chi poteva assomigliarsi con chi poteva confrontarsi se non con quello che era considerato nella sua epoca il poeta mitico il poeta archetipico però l'origine della poesia stessa Orfeo solo che se tutto ciò è vero Orfeo è però anche per Dante un mito negativo cioè Dante si rappresenta sì come un novello Orfeo come un moderno Orfeo ma come un Orfeo cristiano cioè come un Orfeo che non cade nell'errore tipico di Orfeo l'abbiamo già visto in quel gesto negativo che connota tutto il mito è lì al momento di voltarsi indietro che Dante smette di comportarsi come Orfeo che va nell'aldilà per ritrovare la donna amata ma supera il mito di Orfeo non voltandosi mai più andando dritto verso il suo scopo di salvezza e di beatitudine che lo porterà in compagnia e con la guida di Beatrice alla contemplazione del sommo bene nell'alto dei cieli quindi Dante personaggio nella divina commedia rappresenta un Orfeo cristiano vale a dire un Orfeo corretto una correzione del mito alla luce della morale cristiana ora questo diciamo nella critica dantesca è stato poco valorizzato e poco è già forse un eufemismo direi quasi per nulla tant'è che nella voce Orfeo della importantissima enciclopedia dantesca Giorgio Padoan diceva proprio questo è così strano che è così strano che Dante non citi mai questo mito di Orfeo che lo ridisce in tutta la sua opera eppure si tratta di un mito che è così calzante così aderente alla grande storia vero di amore morte resurrezione che lui ci sta raccontando c'è però forse un'eccezione un'eccezione importante che ora vorrei vedere insieme con voi se passiamo alla prossima slide la critica dantesca si avvale spesso e giustamente dei più antichi commentatori di Dante sapete che la divina commedia ha cominciato ad essere commentata fin poco dopo la morte di Dante insomma già alla metà del 300 ora tra questi commentatori trecentesi ce n'è uno particolarmente colto raffinato importante che è benvenuto da Imola un commentatore già insomma umanista umanistico in qualche modo ora Dante cita Orfeo solo due volte in tutta la sua opera una volta nel convivio ma è il mito di Orfeo non Orfeo del Oridice è il mito di Orfeo che con il suo canto e con il suo dolce suono ammansisce le bestie feroci e questo viene interpretato da Dante stesso come un'allegoria della razionalità che sottomette gli istinti ferini poi lo cita nel quarto dell'inferno quando Virgilio presenta a Dante i nobili spiriti del limbo nel nobile castello c'è la filosofica famiglia e tra i tanti filosofi nominati viene ma di passaggio in un elenco viene nominato e nominato e basta anche Orfeo Orfeo in quanto appunto poeta teologo dunque anche poeta filosofo ora benvenuto da Imola prende spunto direi quasi prende a pretesto questa semplice e fugace nominazio per inserire nel suo commento la chiosa che vedete una chiosa in cui fa il parallelo fra Orfeo e Dante che appunto per noi è così importante perché in qualche modo ci conferma in tutto quanto abbiamo osservato finora e dice così Orfeus infatti il cammino nell'aldilà di Dante è un cammino di salvezza è il cammino del peccatore che si purifica l'anima pian piano e poi può tornare nel mondo completamente puro per riportare appunto un messaggio di salvezza sicud similiter Dante Sivit proprio come Orfeo et placavit omnia monstra inferni per la verità a placare i vari mostruosi guardiani infernali e Virgilio ma insomma per la proprietà transitiva qui benvenuto attribuisce questa azione a Dante stesso che placa tutti i mostri dell'inferno qui adidicit vincere et fugare omnia vizia et supplizia viziorum perché Dante sottinteso durante questo suo cammino impara a vincere e a mettere in fuga tutti i peccati e anche le pene relative a questi peccati quindi fin qui c'è un parallelismo tra la storia di Dante e quella di Orfeo poi la seconda parte della chiosa è introdotta da questo forte sed questa avversativa marcata sed Dante perché fin qui c'è il parallelismo ma ora c'è la divergenza sed Dante non quam respect si tatergo ecco la differenza mentre Orfeo si volta perde e quindi pecca Dante non si guarda mai indietro dietro le spalle qui diannunquam redivita vizia more canis qui c'è l'allusione a un detto proverbiale già biblico molto diffuso nel medioevo il cane che vomita fa per andarsene e poi in qualche modo è spinto a tornare indietro a riguardare questa deiezione schifosa viene interpretato anche nei bestiari come il peccatore che pecca e poi non sa allontanarsi dal suo peccato ma ricade nel peccato quindi come diciamo emblema del peccatore incallito quindi Dante questo non lo fece mai di tornare a riguardare il suo peccato ma andò sempre dritto verso il bene allontanandosi dal peccato sed Orfeus vedete la correlazione sed Dante sed Orfeus quia non servavit legem datam poiché Orfeo non mantenne fede alla parola data non ottemperò al patto fatto con la divinità perdidit omnino animan suam perse del tutto definitivamente la propria anida et sic fuit error novissimus peior priore e questo errore fu peggiore ancora del primo peccato ora questa chiosa è estremamente eloquente ci dice fin dove Dante segue il cammino di Orfeo e poi anche da dove se ne distacca cioè mentre Orfeo ricade nel peccato e dunque perde la propria anima Dante va dritto senza voltarsi mai indietro e quindi raggiunge la salvezza della propria anima dunque in questo senso dicevo Dante si rappresenta sì come un novello Orfeo ma come un Orfeo cristiano un Orfeo buon cristiano cristiano perfetto che riesce a raggiungere il proprio scopo di salvezza portando il suo cammino appunto fino alle estreme e benefiche conseguenze ma finora diciamo questo parallelo io stesso l'ho tenuto ovvero tra Dante e Orfeo l'ho tenuto tutto su un piano morale di allegoria morale in realtà credo che ci sia ben di più Dante non è solo vero filosofo e teologo è poeta è poeta e dunque c'è anche un il senso di un superamento del mito antico non solo sul piano strettamente della morale cristiana ma anche su quello della poetica della poesia perché perché la poesia che Dante vuol fare è una poesia diversa nuova una poesia cristiana Dante vuole essere sì erede degli antichi come si fa dire vero nel quarto dell'inferno che è sesto tra cotanto senno vero quindi erede di Omero Virgilio e gli altri poeti della bella scola però è un poeta erede degli antichi ma è un poeta moderno cioè un poeta della cristianità però tant'è che il suo poema lo dice nel venticinquesimo del paradiso è un poema a cui ha messo mano cielo e terra cioè non è il poema di un uomo semplicemente ma è il poema di un uomo guidato da Dio guidato dalla grazia divina che ha dalla sua la grazia divina e in questo senso quindi anche la poetica dantesca supera la poetica antica quella rappresentata proprio come prototipo da Orfeo la poetica di Dante la poesia anche di Dante vuole essere un superamento non solo sul piano morale cristiano ma un superamento da tutti i punti di vista Dante vuole fare una poesia modellata sugli antichi ma una poesia che esprima la grazia e la salvezza che ci porta Cristo questo è il suo scopo e su questo io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto